Martellago, il segretario metropolitano del PD veneziano Gigliola Scattolini, interviene sulla polemica sollevata dalla blogger Selvaggia Lucarelli nei confronti del segretario del circolo di Martellago, Davide Miele, in qualità di animatore di una pagina Facebook che, secondo la segnalazione della Lucarelli, avrebbe diffuso materiale pornografico e violento. Se quanto denunciato corrispondesse alla realtà, ha spiegato Gigliola Scattolini, non esiteremo a destituire definitivamente Miele dal suo incarico, fino a quando non sarà fatta piena luce sull'accaduto, il segretario di Martellago è da considerarsi sospeso da qualsiasi incarico di partito.